Cari amici di Strammina, ho accoruto a un grande piacere l'invito di voto da comitato organizzatore ed ecco a voi nelle vesti di principe di Strammina. Mi auguro di essere all'altezza a un dedicato tempo che mi aspetta, ma posso assicurare che fin d'ora che farò il possibile per vivere e far vivere a tutti voi un carnevale sereno, allegro e divertente. Non mi hanno saputo fare un piacere di tutti. Di questo difficile mi creeremo di conto che sarò fiancata dalla principessa che sto per presentare e che vi prego di accogliere con un tonoroso applauso. Mentre ringrazio tutti per la simpatia che volete dimostrarci, vi presento finalmente la principessa, signora Maria Maggiore! Grazie a tutti! Grazie a tutti.